la copertina oggi va allo spread lo spread chiude a due quarantacinque non andiamo sopra al massimo segnato a metà giugno quindi questo è un segnale importante e questo lo dobbiamo alla bce oggi riunione della bce che ha aumentato i tassi dopo 11 anni di mezzo punto quindi 50 basis point quindi un rialzo storico però nel contempo ha varato questo scudo anti spread tpi transmission protection instrument vuol dire che in pratica è un sistema per andare ad acquistare i titoli dei paesi per i quali si sta allargando pericolosamente lo spread decideranno loro quando sarà il momento di intervenire ha detto che non ci saranno limiti nelle quantità ovviamente sono state poste delle condizioni non è non è pensabile che la cosa sia a gratis come si suol dire quindi le condizioni sono che comunque c'è quadro di bilancio in ordine non ci devono essere grossi squilibri macroeconomici quindi ci sarà sempre discrezionalità nel senso che è chiaro che se lo stato manda i conti a scatafascio l'europa non si sente meglio la banca centrale europea non si sente in dovere di intervenire quindi il minimo però ha sottolineato ripetutamente che la decisione è stata presa all'unanimità quindi c'è la volontà di non lasciare che si alimentino queste spirali come abbiamo visto in passato con questi spread che possono alzarsi in maniera incontrollata è chiaro che bisogna meritarsi l'intervento della bce in caso di bisogno in questo momento ricordo che lo spread tra btp e bund è superiore rispetto quindi abbiamo uno spread più alto rispetto a quello della grecia ecco quindi questo giusto per dire qual è il momento e il fatto che oggi appunto non si sia rotto il massimo di giugno lo dobbiamo al fatto che appunto i mercati sanno che c'è questo meccanismo di protezione quindi la speculazione deve comunque stare attenta perché se entra in campo poi la bce con gli acquisti è chiaro che le speculazioni diventano molto più pericolose e questo ovviamente non ha impedito comunque al nostro btp di perdere l'uno e sette per cento ma rispetto a come si era messa per il momento per il momento quindi aspettiamo sempre intanto domani la chiusura della settimana sarà importante aspettiamo qualche giorno per vedere appunto se questi livelli terranno per il momento diciamo il comportamento è positivo oggi aumento di volume a un certo punto è entrata la domanda vediamo se questo livello che più o meno corrisponde alla metà di questa gamba rialzista che è andata a vedere la volatilità stop line riuscirà a tenere secondo me è importante quest'area 120 vediamo la differenza col bund che invece è molto più vicina alla volatilità stop line ci sta lavorando ci sta lavorando da diversi giorni oggi una candela tipo hammer quindi da un punto di vista tecnico positivo secondo me ci sono buone probabilità per il bund di andare a rompere area 153 e 6 e quindi testare la volatilità di stop line cercando di andare a coprire anche la parte che rimane di spazio fino alla media 200 parliamo sempre di probabilità e cioè quindi qui certezze non ce ne sono però ecco come vi ho detto più volte quando i prezzi battono 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 su un livello di resistenza è come se dessero dei colpi su un muro che man mano viene indebolito sgretolato no quindi aumentano le probabilità oggi una candela tecnica interessante per il bund da seguire quindi c'è questo clima in questo momento di rientro dei rendimenti dopo le tensioni degli ultimi delle ultime settimane anche il rendimento del decennale americano scende al 2 87 per cento siamo comunque in un trading range ormai dal mese di aprile quindi un livello che è abbastanza stabile per ora in attesa di conoscere i prossimi dati sull'inflazione settimana prossima abbiamo la riunione della banca centrale americana e queste sono le ultime riunioni poi le prossime saranno a settembre quindi ad agosto diciamo da un certo punto di vista anche la speculazione avrà campo libero quindi storicamente il mese di agosto è stato un mese che in alcuni anni è stato molto volatile per cui anche quest'anno viste un po tutte le variabili in gioco possiamo aspettarci che la volatilità continui in un modo o nell'altro adesso vedremo un attimo che piega stanno prendendo gli azionari cominciamo dagli americani che hanno chiuso già da un po s&p 500 più 1 per cento diciamo che questo canale di regressione possiamo considerarlo rotto al rialzo con pochi volumi questo non è un bel segnale tecnico quindi conferma che con ogni probabilità si tratta di un bear market rally possiamo cancellare il cap e nando che è stato rotto al rialzo lascere il segnetto su quella famosa candela intraday non ne parliamo oggi abbiamo parlato di altri video nel parleremo poi in caso più avanti stiamo entrando nella fascia di resistenza data dal gap ribassista del 9 10 giugno test molto importante ci stiamo arrivando senza volumi secondo me un po fiacchi scarichi comunque ecco domani ultimo giorno della settimana quindi vediamo se riusciamo almeno a finire la settimana su questi livelli per vedere se questo rally riesce a proseguire quanto meno fino a quell'area che avevamo dato come target 4050 ne avevamo parlato un po' di tempo fa smp lascia aperta strada rialzo era nel video sp target 4050 se ne avevamo parlato il 5 di luglio quando si stava formando appunto dal punto di vista tecnico una potenza una potenziale figura di inversione ricordo che qua siamo e che i volumi ce lo confermano volumi in calo man mano che si sale siamo nell'ambito in movimento correttivo dopo ecco apriamo un po il quadro rottura della media 200 la volatilità di stop line che si dispone regolarmente in chiave ribassista e quindi questo è per adesso uno dei soliti movimenti di pullback verso le resistenze quindi dobbiamo vedere ben altri segnali prima di dire che la musica è cambiata dow jones più 0 5 perché oggi sono usciti dei segnali dei dati macro negativi quindi dati macro negativi in questo momento il mercato reagisce in parte con riflessi condizionati del 2021 cosa vuol dire dati macro negativi vuol dire che i tassi forse non salgono tanto quindi salgono i tecnologici e quindi il nasdaq più 1 e 4 salgono i tecnologici e vengono penalizzati ciclici gli industriali quindi dow jones più 0 5 nasdaq più 1 e 4 oggi trascinato dal rimbalzo di tutti i titoli tecnologici quelli più bastonati dell'ultimo degli ultimi mesi andiamo sul mercato americano nettis questa è quantum scape immagino qui esatto quando guardate qui che roba cioè questo è un titolo assolutamente polverizzato oggi più 6 non ma neanche si vede o ne abbiamo già parlato cioè queste percentuali neanche si vedono snapchat shopify etzip in duo duo questi sono del giro cinese zoom netflix eccetera eccetera sono tutti i titoli tecnologici perché il tema oggi è stato quello lì quindi tecnologici su quindi guardiamo il nasdaq il nasdaq riesce a superare la resistenza data dal gap del 9 10 ma essendo è sceso parecchio prima più degli altri come vedete anche se ha superato quella resistenza siamo ancora non siamo ancora a tiro della volatilità stop line che non riesce a toccare dal mese di marzo vediamo se ci riesce questa volta vediamo se riusciamo a testarla anche per il nasdaq ci sono volumi in calo e quindi l'america oggi chiude così torniamo sull'europa e abbiamo visto prima il btp e oggi è stata tirato per i capelli anche il nostro fuzzi mi tirato per i capelli chiude meno 07 ma aveva aperto molto molto male quindi una candela gialla che oggi chiaramente non era attesa vista la situazione per cui anche per il fuzzi mi c'è la possibilità di un rally tecnico certo guardate qui la differenza con gli indici americani questa è la resistenza del famoso gap 9 10 giugno guardate che distanza gli indici americani lo stanno superando guardate la volatilità stop line dov'è comunque a sorpresa anche se non c'è non ce lo aspettiamo potrebbe esserci un rally tecnico anche per il fuzzi mi un amico scendo sulla scala un'ora perché un amico chiedeva se c'era la possibilità di un testa e spalla sì queste sono tutte figure ora testa e spalle rialzista sono tutte figure sono adesso sono sulla scala un'ora quindi scusate se salto ma è per far vedere che poi scendendo nel dettaglio si può vedere ecco quindi questo possibile rialzo ecco la candela di oggi che abbiamo visto candela gialla in realtà potrebbe essere la spalla destra di un testa e spalle rovesciato dove questa è la testa questa è la spalla sinistra questa la spalla destra certamente sì quindi è chiaro che diventerebbe operativo alla rottura di 21 e 7 ricordate sempre che i test spalle non è che vanno per forza dove devono andare anzi hanno una percentuale di riuscita molto bassa se quando si fanno i back test bisogna che ci sia la rottura della neckline con volumi quindi attenzione per il fuzzi mi per rispondere all'amico ad area 21 e 8 se sta seguendo questo testa e spalle su scala intraday il dax andiamo scusate salto sulla scala due ore perché quella che seguiamo di più ho usato prima la scala un'ora perché più dettagliata più granulare quindi per vedere certe figure può andar bene ecco il dax oggi meno 0 27 sta cercando di consolidare sopra sotto la media a 200 periodi scala ripeto due ore e quindi siamo in una in una fase dove si potrebbe formare il solito imbuto quindi la volatilità di stop line gialla che sale la media a 200 che scende i prezzi che per un po rimarranno qua dentro cercando di uscire verso l'alto e andare verso la resistenza importante in area 14 mila area 14 mila che per la cronaca è il solito gap 9 10 giugno dove ripeto gli indici americani sono già arrivati quindi l'europa è molto indietro per i motivi che abbiamo detto sulla le questioni di energetiche di interruzione delle forniture o comunque riduzione delle forniture che potrebbero impattare sui titoli industriali quindi un indice come quello del dax che è pieno di titoli industriali è particolarmente è stato in queste settimane mesi particolarmente penalizzato perché il mercato ha cominciato a scontare queste notizie negative ripeto magari cose già dette ma per chi non ha sentito i video precedenti magari può essere utile quindi giornate di consolidamento la strada ancora è aperta per tentare anche qui di colmare a riuscire almeno ad andare a chiudere almeno questo gap del 10 giugno tra il 10 e il 13 questi sono i due gap consecutivi aperti nella famosa settimana di giugno e quindi oggi giornata neutrale vediamo la chiusura di domani non perdetevi il video di fine settimana perché faremo il punto di situazione utilizzando la scala weekly come facciamo sempre per i fine settimana in modo da vedere un po il quadro dall'alto e allora passerei un attimo alle richieste il rame sempre sulla scala intraday un amico chiedeva se questo può essere considerato un cap enendol allora ripeto ancora una volta sì queste sono tutte figure di potenziale inversione tutte quelle che somigliano a cap enendol testa e spalle rovesciati sono potenziali figure di inversione l'accortezza è sempre la stessa attenzione perché queste poi diventano operative solo quando viene rotta la resistenza in alto quindi nel caso del ram parliamo di area 335 per quello che riguarda il cap enendol poi in particolare questa forma è un po troppo a v nel senso che il cap enendol si chiama così tazza e manico proprio perché il generalmente il minimo è di forma arrotondata vediamo se riesco a beccare il tool grafico se riesco a trovarlo così ecco a più o meno un minimo una forma a tazza così con il ecco questo è un po troppo a v quindi però è irrilevante nel senso che comunque dietro queste forme poi c'è una dinamica dei prezzi una dinamica di posizionamento degli operatori che alla rottura delle resistenze fa scattare poi certi meccanismi no quindi che sia testa e spalle che sia cap enendol però la risposta è sì è simile a quello che abbiamo visto per le sempli nei giorni scorsi ecco questa dovrebbe essere la maniglia della tazza ecco poi volevo far notare eh di interessante eh apple più un e cinque che sale sulla torno sulla scala daily eh che sale oggi sulla sull'onda della giornata positiva è un periodo diciamo più di qualche giorno positivo per i tecnologici la faccio notare perché chi segue si ricorderà che avevamo parlato di quest'area 150 no? 150 aveva dato il via a tutto il movimento diciamo all'accelerazione del movimento ribassista nel mese di maggio era stata testata test fallito siamo tornati verso il basso una figura tipo doppio minimo che adesso sembrerebbe rotta al rialzo quindi con i prezzi che rientrano sopra l'area 150 allora attenzione perché questo è un segnale è un segnale bullish ma potrebbe essere una trappola perché perché i prezzi stanno entrando in questa area di resistenza molto importante data dalla volatility stop line che nel frattempo è incrociato verso il basso la media 200 quindi quest'area qua nei prossimi giorni secondo me è da monitorare con molta attenzione la cerchiamo perché così poi nei prossimi giorni la controlliamo e vediamo se io qui mi aspetto una resistenza perché se invece i prezzi dovessero continuare verso l'alto con volumi che aumentano altra cosa che non si vede e che questo break secondo me già avrebbe dovuto mostrare comunque se dovessimo vedere il superamento di questa fascia con volumi in crescita potrebbe essere un segnale che a apple va ai nuovi massimi quindi comunque vediamo la vediamo uno step alla volta e quindi continuate a seguire e continuate a segnalare situazioni interessanti così poi le guardiamo assieme e intanto vi ringrazio per l'attenzione e appuntamento a domani